Ciao a tutti, da oggi c'è una novità, si chiama Svapo Box Official, il servizio che ti permette di provare liquidi differenti comodamente a casa tua e con prezzi convenienti. Vediamo come funziona. Registrati su www.svapoboxofficial.it, la registrazione è gratuita. Indicando le tue preferenze per i liquidi e l'indirizzo di consegna potrai acquistare la Svapo Box che preferisci, in forma singola oppure in abbonamento per il massimo risparmio. Ed ecco fatto, riceverai in pochi giorni la tua Svapo Box personalizzata. i migliori liquidi, senza perdere tempo a cercarli nei negozi e senza doverti preoccupare del costo. Grazie ad un'attenta gestione ed un ampio magazzino, il costo è stato calcolato per essere sempre super conveniente. È possibile l'acquisto singolo oppure l'abbonamento per ricevere la Svapo Box a casa tua senza costi aggiuntivi. I liquidi sono tutti certificati e provengono dai migliori produttori internazionali, in questo modo avrai una vasta scelta. Sono disponibili inoltre liquidi americani super aromatici, richiestissimi e molto spesso difficili da trovare, soprattutto per i più esigenti. Vi ricordiamo inoltre che i liquidi inviati saranno sempre e solo di tuo gradimento, in base alle preferenze che avrai indicato in fase di registrazione. Una volta ricevuta a casa tua la Svapo Box, potrai condividere la foto sui social con l'ashtag SvapoBoxofficial. Buon Svapo a tutti da SvapoBoxofficial.it